Oggi vediamo come si realizza un'animazione con il Pintool, ovvero questa simpatica puntina da disegno. Per questo lavoro abbiamo già importato un'immagine PNG di Puffetta, la mia eroina preferita dei cartoni animati, ed eccola qui. L'immagine è PNG ed è già scontornata, questo perché il Pintool va a lavorare sul canale alfa, cioè sull'area dei pixel esistenti, semplicemente. Ora noi abbiamo messo uno sfondo, giusto per comodità, a questo punto quello che andiamo a fare con questo Pintool è che andiamo a creare dei punti, per cui andiamo su mano e spalla e di nuovo andiamo su mano e spalla, ne mettiamo uno sulla testa, ne mettiamo uno per l'inizio delle gambe e uno per i piedi. Ora quello che va a succedere qui dentro è che abbiamo creato dei keyframe per ognuno di questi punti, per cui spostandoci avanti nel tempo, diciamo a 10 secondi, e qui tronco la composizione perché 30 secondi è un po' troppo lungo, a questo punto portandomi in un altro punto della timeline, io posso muovere questi punti e quindi vado a deformare lievissimamente la mia puffetta, ovviamente qui si tratta di fare aggiustamenti piccoli guardando quello che succede in maniera tale da non distruggere il disegno originale. Quello che otteniamo è che adesso la nostra puffetta si muove, animazione veramente minima, se la portiamo a essere più rapida la vediamo di più, il movimento che sta facendo è questo. Ora animare un intero cartone così può risultare molto lungo però, per cui allora l'effetto marionetta è un effetto a tutti gli effetti, quindi si può anche cancellare. Ora nel momento in cui io voglio animare una sequenza in maniera fluida e continua, invece che dargli semplicemente dei punti e poi stare ad animarli tutti, posso fare anche un'altra cosa. Posso ok, selezionare i miei punti, è importante selezionarli tutti perché nel momento in cui io ne selezionassi solo due muovendo questo punto si muoverebbe anche tutto il corpo, invece così dove io ho messo dei punti rimane fermo e io posso muovere solamente il punto che ho selezionato. Esiste un'opzione che si chiama opzione di registrazione. Se io la clicco, gli dico che voglio lavorare su una velocità del 60%. In questo modo il video andrà avanti più lento del normale, io ho più tempo per fare i miei movimenti. Se io premo command viene fuori lo stopwatch sopra al punto che ho deciso di utilizzare. Ora io tengo premuto command e vado a cliccare. Nel momento in cui io clicco la timeline si mette a scorrere, quindi io posso animare nel tempo il movimento del piedino facendolo andare più veloce oppure più lento. Posso farlo andare a rotazione oppure solo avanti e indietro. Nel momento in cui io rilascio smette di registrare. Se io lo lascio andare fino alla fine si ferma alla fine. In questo modo io ho creato tanti keyframe e sostanzialmente ho creato un'animazione del mio piedino che balla. Un'animazione continua durante tutta tutta quanta la mia sequenza. Quest'operazione la posso svolgere anche per gli altri punti. Quindi adesso posso andare sulla mano e faccio la stessa cosa. Premo command e posiziono all'inizio ovviamente. Premo command e comincio a trascinare. Faccio fare tutti i movimenti che voglio. Sono indipendenti dal... adesso mi fermo e quindi ci siamo fermati qua. I movimenti sono indipendenti dal resto del corpo perché c'è un altro punto di ancoraggio qui che blocca, quindi sarà solo la mano a muoversi. E con questo metodo posso animare tutto il mio cartone in un tempo relativamente breve. Dopodiché posso aprire le opzioni della trama e andare dentro a mettere un easy ease piuttosto che a giocare con tutti i keyframe e animarli nel tempo. Però questo è un modo molto rapido di eseguire un'animazione veloce su un cartone come può essere la nostra bellissima cuffetta.